Benvenuti a MeteoGiulianci.it, dopo domani il sabato 3 febbraio ancora bel tempo al centro-sud, nubi in aumento invece al nord per l'avanguardia di una perturbazione atlantica che poi domenica porterà piogge su quasi tutto il nord e darà avvio ad una fase piovosa che durerà per altre tre o quattro giorni nella prossima settimana. Ma vediamo la mappa del satellite virtuale, vedete appunto le nuvole che ricoprono tutto il nord Italia. Che tempo allora farà dopo domani? Bene, le nuvole al nord, il sereno al centro-sud, ma niente di più. Vediamo le temperature massime, temperature che saranno in calo sul nord Italia, ma ancora ovunque gradevoli. Bene, termino qui, vi ringrazio per l'ascolto, ancora un buongiorno.